Antonio Baldelli quindi candidato per Fratelli d'Italia in appoggio ad Acqueroli e Baldelli nel suo slogan insomma elettorale dice no ceriscioli non spacca perché? Sì perché in questo momento di grande confusione politica soprattutto nell'ambito del centrodestra perché il centrosinistra è bravo ad esercitare il proprio potere anche sulle teste dei cittadini come purtroppo è accaduto nella nostra regione alcune forze politiche del centrodestra hanno fatto delle scelte che io non ho condiviso perché ho preferito la coerenza a delle alleanze innaturali quindi i miei elettori devono capire che io sono un elemento di rottura con la vecchia politica non voglio avere nulla a che fare né con ceriscioli che rappresenta il vecchio del vecchio della politica della nostra regione della nostra provincia né con spacca che è stato l'artefice insieme al PD ad esempio della distruzione della nostra sanità Certo, vabbè, questo insomma è una tua opinione e naturalmente la prendiamo però volevo chiederti un'altra cosa tu bisogna riconoscere in Baldelli che lui è un uomo che viene dalla destra che ha continuato a stare a destra e non è andato verso Forza Italia come hanno fatto gli altri eccetera quindi in questo è molto stato coerente con le sue idee con il suo modo di essere e ci sono e c'è chi è che dice insomma si vocifera che sarai quello che prenderai i voti di Forza Italia eccetera soprattutto di quell'elettorato scontento di questo appoggio così di questa come dire questa coalizione con l'ex governatore spacca Vedi Francesca, io mi sono allontanato dal lagone politico provinciale quando il centrodestra ha deciso di creare in provincia una lista unica con il PD ma con il più vecchio del PD, ossia con Palmirocchielli e Matteo Ricci coloro che hanno governato la provincia negli ultimi dieci anni coloro che hanno distrutto le nostre strade provinciali coloro che hanno creato un debito della provincia di ben 120 milioni di euro non soddisfatti di aver creato questo debito stratosferico per una provincia piccola come quella di Piesor Rubino nel 2009 e nel 2010 hanno acquistato persino, pensa un po', 42 milioni di euro di titoli tossici ossia hanno giocato in borsa con i soldi dei cittadini questo gioco in borsa lo stiamo oggi scontando non ci sono più i soldi per manutentare le nostre strade ma non ci sono più questi soldi per un motivo proprio per questa gestione dissennata della provincia di Piesor Rubino con questo uso del denaro pubblico come se fosse denaro di nessuno e come se si potesse spendere senza dover rendere conto a nessuno tanto da giocarlo in borsa con l'acquisto di 42 milioni di euro di titoli tossici derivati bene, senti, invece venendo diciamo così al nostro territorio quindi alla provincia di Piesor Rubino, al nostro Monte Feltro qui oggi sei insomma nel nostro Monte Feltro storico, eccetera che cosa ci puoi dire? Ecco io vorrei parlare con te di tre innanzitutto di sanità, tu sei uno che ti sei battuto tantissimo sei la voce diciamo così più presente e qui noi assistiamo a questi ospedali che devono chiudere che si devono convertire, qual è la tua visione diciamo così sulla sanità e come dovrebbe essere? Bene, io sono qui nel Monte Feltro e mi trovo a casa mia come vedi ho tanti amici che sono venuti ad ascoltarmi proprio per amicizia e credo anche per stima per quanto riguarda la sanità io sono molto molto preoccupato ma come me sono molto molto preoccupati tutti i cittadini sia dell'entroterra ma iniziano a essere preoccupati anche i cittadini della costa perché la nostra sanità è stata distrutta che che ne dica il Presidente Spacca che che ne dica l'ex sindaco di Pesaro Ceriscioli oggi candidato alla presidenza della regione e che la situazione della nostra sanità provinciale sia gravissima non lo dice questo candidato al Consiglio regionale lo dicono i documenti infatti a me piace girare in questa mia campagna elettorale con documenti documenti provenienti dalla stessa regione Marche come il calcolo dei posti letto ogni mille abitanti ebbene dopo la riduzione di decine e centinaia di posti letto nella nostra provincia rimangono 2,73 posti letto ogni mille abitanti ebbene la limitrofa provincia di Ancona ha circa il doppio dei nostri posti letto ben 4,66 posti letto ogni mille abitanti e allora la scusa, la scusante del Partito Democratico che deve giustificare questa disuguaglianza questo atto di ingiustizia verso la nostra provincia afferma che Ancona deve avere maggiori posti letto di Pesaro perché sede di un ospedale regionale ebbene ancora una volta mentono ai cittadini perché non dicono, non raccontano ai cittadini ad esempio che la provincia di Macerata ha ben 3,60 posti letto ogni mille abitanti la provincia di Ascoli Piceno ha ben 3,74 posti letto ogni mille abitanti pur non essendo sede di ospedali regionali noi, lo ricordo, abbiamo solamente 2,73 posti letto ogni mille abitanti a seguito della chiusura dei nostri ospedali dei nostri ospedali di Cagli Fossombrone e Sasso Corvaro a seguito del depotenziamento gravissimo dell'ospedale di Pergola ma tutto nasce da un piano sanitario dal piano socio sanitario regionale 2012-2014 che presenta una gravissima decisione da parte della regione Marche da parte di Spacca, ricordiamocelo di Ceriscioli del PD per questo io sono no Spacca, no Ceriscioli a pagina 225 del piano sanitario è scritto si prevede il consolidamento a nord della regione dell'azienda ospedaliera e ospedali riuniti Marche Nord ad integrazione della realtà di Peso Refano ma con la realizzazione di una struttura unica per la copertura del bisogno di cura e assistenza al livello minimo di area vasta ossia dell'area vasta 1 ossia della provincia di Peso Rubino cosa dice in pratica questo documento? che nella provincia di Peso Rubino andrà ad esistere infine un solo ospedale che sarà quello unico che sarà costruito così loro dicono tra Fano e Pesaro e che andrà a chiudere tutti gli altri ospedali lo dice qua ospedale unico persino quello di Urbino e questo creerà una situazione disastrosa nella nostra provincia perché non solo verranno chiusi gli ospedali dell'entroterra e quindi l'entroterra si troverà senza una struttura che garantista nemmeno l'emergenza ma andranno a distruggere anche la sanità della costa perché si creerà un imbuto verso la costa verso quell'ospedale unico che poi non verrà mai realizzato e poi approfondirò che non consentirà all'ospedale della costa non solo di non curare i pazienti che provengono dall'entroterra ma non riuscire a far fronte nemmeno più alle esigenze dei pazienti della costa poi questo ospedale unico è solamente una illusione perché non ci sono i fondi non ci sono le possibilità e in realtà non c'è nemmeno il sito dove costruirlo quindi oltre a chiudere a far chiudere la previsione di questo ospedale unico nel piano sanitario gli ospedali dell'entroterra andrà a depotenziare come già nei fatti anche gli ospedali di Fano e di Pesaro perché con la scusa di un futuro ospedale unico stanno integrando i due ospedali cioè chiudendo alcuni servizi in un ospedale chiudendo alcuni servizi nell'altro ospedale con la scusa dell'integrazione e andranno a spogliare anche gli ospedali della costa a tutto vantaggio della sola provincia di Ancona che ancora una volta farà la parte del leone e ucciderà la nostra sanità allora quale potrebbe essere la tua proposta e se però compatibilmente diciamo così con i tagli perché quelli ci devono essere sono previsti in ogni regione italiana ma io non sono d'accordo che il taglio della sanità sia indispensabile innanzitutto la sanità è una spesa sociale non è un altro tipo di spesa che può essere compressa la sanità riguarda il diritto alla salute costituzionalmente garantito e quindi non può subire questa compressione anche perché vedi Francesca loro dicono che con i tagli dei nostri ospedali hanno migliorato e razionalizzato la nostra sanità ebbene la mobilità passiva dopo i tagli dei nostri ospedali dopo le riconversioni in casa della salute dei nostri ospedali è passata nella nostra provincia da 30 milioni a 48 milioni di euro questo è il risultato della loro razionalizzazione è quello che ti dicevo prima la chiusura dei nostri ospedali ha portato a un imbuto verso la costa la costa non è riuscita ad assorbire i pazienti dell'entroterra e i pazienti dell'entroterra insieme a quella della costa sono fuggiti nelle regioni vicine al farsi curare dove tra l'altro hanno anche una risposta migliore sono fuggiti verso l'Emilia Romagna sono fuggiti addirittura verso la Lombardia sono fuggiti addirittura anche verso la vicina Umbria perché sono in grado di garantire servizi migliori in tempi adeguati cosa che non accade nella nostra regione nella nostra provincia quindi io non sono sicuro come altre forze politiche come altri candidati sentivo l'altro giorno su Tgcom24 anche il candidato dei 5 Stelle che diceva che tutto è è nato tutti i problemi sono nati dal fatto che ancora le case della salute non hanno non hanno cominciato a funzionare no tutto è nato dalla riconversione dei nostri ospedali in case della salute questi ospedali che prima garantivano il livello di assistenza minimo quello che si diceva che leggevo prima nel piano sanitario a oltre 100.000 persone della nostra provincia ora non lo fanno più e queste 100.000 persone sono costrette a fuggire verso le regioni vicine e pensate voglio fare solamente un esempio gli anziani del nostro territorio il nostro territorio è un territorio di anziani gli anziani del nostro territorio costretti a fuggire in Lombardia in Emilia Romagna in Umbria un medico di condotta mi ha raccontato qualche settimana fa una scena davvero drammatica una moglie che salutava il marito sull'ambulanza una coppia sola che erano senza figli di oltre 70 anni che salutava il marito sull'ambulanza e gli diceva speriamo di rivederci perché il marito non aveva trovato posto nella nostra regione e stava andando in un ospedale della Romagna questa donna anziana non aveva la patente non poteva raggiungere il marito per assisterlo e lo ha salutato come fosse l'ultima volta allora io mi chiedo se questa è una regione giusta e con quale faccia il partito democratico il suo assessore mezzolani gli attuali candidati del partito democratico vengano a promettere cose che non stanno nella realtà perché io voglio veramente denunciare questa doppiezza del partito democratico dove quando è Fano e quando è sulla costa qualche settimana fa sulla stampa prometteva e diceva che era per la realizzazione dell'ospedale unico ossia di quell'ospedale che chiuderà tutti gli altri ospedali e poi quando Ceriscioli e il candidato nonché consigliere regionale Traversini sono stati a Fossombrone ma negli stessi giorni promettevano addirittura il potenziamento dell'ospedale di Fossombrone bugiardi due volte bugiardi perché o è vera la posizione di Minardi o è vera la posizione di Ceriscioli di Traversini e soprattutto bugiardi perché l'ospedale di Fossombrone non esiste più l'ospedale di Fossombrone è stato riconvertito in casa della salute quindi questi venditori di fumo non vengono ancora a ingannare i cittadini della nostra provincia assomigliano tanto a quella signora bionda che compariva ora non lo fa più nelle trasmissioni delle tv locali una certa Vanna Marchi bene no su una cosa in pratica è giusto se ci devono essere tagli devono essere equi al nord delle marche come naturalmente da Ancona in giù eccetera e questo è la storia che abbiamo sempre vissuto ma peraltro praticamente in ogni settore nel turismo nella cultura eccetera tutto è sempre stato destinato da Ancona in giù per quanto si riferisce invece all'agricoltura questi sono nostri territori dove la nostra agricoltura ecco per esempio contrariamente a quello che si vede anche nei produttori del sud delle marche che sono più avanti hanno avuto diciamo così anche delle possibilità di certificare i loro prodotti eccetera qua su noi siamo ancora indietro tu che cosa proponi vedi io non voglio fare promesse ma voglio parlare di quello che ho avuto la possibilità di fare come amministratore comunale mio fratello Francesco Baldelli è sindaco ormai da due legislature nel comune di Pergola addirittura ha riconfermato in una zona di sinistra con una vittoria schiacciante alle ultime elezioni dove ha vinto in 12 seggi su 12 ciò avrà un significato ci sarà un perché e quindi non voglio parlare di quello che potrò fare non voglio proporre promesse come ho visto fare da tanti candidati voglio dire ad esempio quello che ha fatto la nostra amministrazione per gli agricoltori dopo che il pessimo governo Renzi si è inventato credo l'unico che poteva pensare una cosa del genere l'Imu sui terreni agricoli l'Imu sui terreni agricoli poi con una previsione di imposizione veramente assurda veramente vergognosa ossia i terreni venivano tassati in base all'altitudine del palazzo comunale nel cui territorio era sito quel terreno una cosa veramente assurda e anticostituzionale allora ho consigliato all'amministrazione comunale di impugnare non solamente di fronte al tarlazio il decreto del ministero del decreto Renzi che imponeva l'Imu ai terreni agricoli ma ho chiesto al comune e all'amministrazione di cui faccio parte di impugnare il decreto anche di fronte alla corte costituzionale e allora questa cosa deve aver molto spaventato il governo perché leggo ho avuto modo di leggere nei mesi passati su un sito di economia a livello nazionale questo sito forexinfo.it che riportava appunto l'attività del comune di Pergola e come questa attività fosse stata incisiva e voglio testualmente leggere caso più preoccupante per il governo è quello del comune di Pergola dove il sindaco Baldelli ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto del ministero dell'economia riguardante il pagamento dell'Imu sui terreni agricoli di fronte alla corte costituzionale unico in Italia con l'obiettivo di far annullare la norma questo è quello che riferiva tempo fa un sito dopo questo intervento questo ricorso di fronte alla corte costituzionale e dopo naturalmente la forte protesta degli agricoltori delle loro associazioni di categoria il governo ha dovuto far marcia indietro perché l'opinione pubblica era veramente insorta soprattutto la categoria degli agricoltori che ricordiamolo rappresentano un'importante fetta della nostra economia anche se sono stati sempre penalizzati sia dalle politiche nazionali sia dalle politiche europee e allora il governo è stato costretto a fare marcia indietro a cancellare l'Imu per quei comuni montani come Pergola perché se fosse andato avanti il ricorso di fronte alla corte costituzionale forse ci saremmo trovati nella stessa situazione in cui ci si ritrova oggi nella materia pensione che il governo è ora costretto a ridare ai pensionati quello che ha rubato ai pensionati perché se la corte costituzionale dice e dichiara che quella norma è legittima significa che il governo e lo stato italiano ha rubato dei denari ai nostri pensionati e non lo poteva fare perché la costituzione non glielo permetteva allora qualche settimana dopo il nostro ricorso alla corte costituzionale qualche settimana dopo le forti proteste dell'associazione di categoria il governo ha fatto marcia indietro annullato l'imo agricola ai comuni montani come percola l'ha dovuta lasciare ai comuni semi montani e non montani perché quei 250 milioni di euro gli servivano per coprire la marchetta elettorale del governo Renzi fatta in vista delle elezioni europee per comperare il voto di alcuni italiani il governo Renzi ha previsto questo emolumento se così lo vogliamo chiamare di 80 euro che poi 80 euro non erano e che fra l'altro andavano solamente a chi godeva di un reddito e questo è stato veramente vergognoso e per questi 80 euro ancora noi italiani stiamo pagando ora i cittadini e gli agricoltori dei comuni montani non devono più pagare e con grande onore abbiamo ricevuto come amministrazione comunale di Pergola il ringraziamento anche di un sindacato nazionale degli agricoltori la Confeuro la quale nel suo sito istituzionale dice dal comune di Pergola un atto a difesa dell'agricoltura e ringrazia il comune di Pergola proprio per aver promosso questo ricorso alla corte costituzionale che ha contribuito a far cambiare idea al governo questo è l'impegno che ho già profuso che abbiamo già profuso in difesa dagli agricoltori e quindi sicuramente un buon viatico non faccio promesse ma porto quello che ho già fatto come amministratore di uno dei comuni della nostra provincia ma no senz'altro questo insomma va a merito quindi vuol dire che ci sono delle amministrazioni che poi insomma si danno da fare riescono diciamo così ad avere quindi complimenti a tuo fratello alla vostra amministrazione dunque per quanto si riferisce invece un'altra questione che tu dibatti tanto è quella degli immigrati insomma qui invece le cose vanno un pochettino più difficile allora la questione dell'immigrazione è una questione molto delicata perché comunque tocca la vita delle persone quindi non bisogna essere duri nei confronti di questo argomento ma bisogna essere comunque fermi perché io credo che sia demagogia pura demagogia credere che la questione e la problematica dell'immigrazione possa essere risolta risolta spalancando le nostre frontiere e accogliendo tutti senza regole e senza controlli questo non è possibile d'altronde lo Stato italiano non è mai stato uno Stato razzista ha colto circa il 10% della popolazione e ha cercato di integrarla molti stranieri si sono integrati alcuni non si sono integrati costituiscono già un problema per il nostro territorio basti pensare alle statistiche della criminalità una fortissima percentuale di criminalità proviene purtroppo da immigrati perché forse credono che in Italia sia possibile sia concesso tutto quello che non è concesso nemmeno nei loro stati di provenienza e che credo che quindi questa posizione dei governi passati del governo attuale sia diseducativa nei confronti anche degli immigrati che raggiungono il nostro territorio gli immigrati che raggiungono il nostro territorio devono sapere che ci sono delle regole che vanno rispettate e se tu non rispetti queste regole non sei gradito nello Stato italiano te ne devi andare e come dicevo il nostro Stato la nostra nazione ma gli italiani non sono un popolo razzista è un popolo che invece ha saputo accogliere gli immigrati ed anzi spesso e purtroppo questo ha creato malcontento sono stati riconosciuti agli immigrati anche diritti e benefici di cui non godono nemmeno gli italiani e questo io lo ritengo profondamente ingiusto Senti veniamo invece ad una questione degli ultimi giorni rimborsi regionali chi è che ha acquistato yogurt chi giornaletti per orientarsi nel sesso chi è andato in viaggio così ha dato spese a stralcio non dicendo dove andava eccetera e per che cosa tu che idea hai che ti sei fatto io ho un'idea di una politica che è così arrogante che crede di poter non mai rispondere ai cittadini del proprio operato solamente chi crede di non dover rispondere ai cittadini del proprio operato acquista yogurt alla mela o vino san crispino con i soldi dei cittadini io sono stato consigliere provinciale e alla fine ho rinunciato ai miei rimborsi così come la nostra amministrazione comunale ha rinunciato ad ogni rimborso non perché la politica non abbia un costo la politica ha un costo e sarebbe demagogia negarlo proprio perché c'è una situazione tale in Italia abbiamo ad esempio degli anziani e io li conosco personalmente che hanno dovuto distaccare la fornitura del gas non si sono potuti scaldare quest'inverno perché non potevano far fronte alle bollette del gas e poi invece abbiamo dei consiglieri regionali che non hanno nemmeno pur percependo un'indenità congrua e sufficiente alle spese della politica non riescono ad acquistare con i propri soldi nemmeno un cartone di vino san crispino e poi consentitemi la battuta ci sono tanti vini del nostro territorio più buoni avrebbero potuto comprare anche un vino del nostro territorio ridursi ad acquistare vino san crispino con i nostri soldi ridursi ad acquistare yogurt alla mela confezioni e bottiglie di Fanta e di Coca Cola o addirittura nel peggiore dei casi addirittura il libro sull'orgasmo femminile e gli occhiali da vista del presidente Spacca e del presidente Spacca io credo che sia vergognoso e indegno per una classe politica io porto gli occhiali quando sono nel mio studio d'avvocato e sinceramente pur avendo fatto il consigliere provinciale e avendo avuto a disposizione dei rimborsi ai quali ho rinunciato ho acquistato i miei occhiali con i miei denari i denari provenienti dalla mia professione Acqueroli indagato però anche il presidente della mia coalizione è indagato ma c'è una bella differenza innanzitutto io sono garantista e fino a quando non c'è una condanna faccio fra l'altro l'avvocato una condanna definitiva ritengo come prevede la nostra costituzione l'innocenza dell'indagato ma mentre Acqueroli ha speso quei denari per attività politica per incontri con i cittadini e poi ha avuto però l'ingenuità di non saperli rendicontare in maniera corretta perché io ho qua anche l'avviso di garanzia mi è stato inviato da Acqueroli l'avviso di garanzia per far comprendere quale fosse la sua posizione processuale io vedo qua consiglieri ad esempio del partito democratico che hanno acquistato telefoni cellulari che hanno acquistato che hanno pagato cene luculliane da 4.000 euro a botta consentitemi anche questa espressione colloquiale in prossimità dei propri compleanni e in prossimità delle feste del santo natale della pasqua allora io credo che ci sia una differenza che i cittadini ormai hanno l'intelligenza di saper distinguere si dice che questa campagna elettorale appunto per le regionali che vede questi due soprattutto cerisoli e spacca da una parte che si possa scatenare in una come si dice in una guerra territoriale quindi praticamente un cerisoli che è il nord delle Marche e che quindi diciamo così possa questa guerra si scateni proprio all'interno del PD e quindi con appoggio a spacca da parte magari di Ancona in giù sempre per la vecchia storia che insomma le nord questa volta un governatore che forse presumibilmente potrebbe essere cerisoli a conti eccetera potrebbe dare fastidio tu che idea ti sei fatto innanzitutto io spero che i cittadini marchigiani siano così intelligenti di non affidare nuovamente la nostra regione a chi sta chiudendo i nostri ospedali a chi ha distrutto le nostre strade provinciali perché ricordiamocelo che il partito che ha governato negli ultimi 20 anni la nostra provincia che ha distrutto le nostre strade provinciali è lo stesso partito di cerisoli candidato alla presidenza della regione Marche però io credo che i cittadini siano molto intelligenti e appoggio e confermo le tue parole si stanno scannando fra ex colleghi e compagni di partito si stanno scannando perché questa è una lotta di potere non è una elezione non è una campagna elettorale in cui si ascoltano i cittadini e si cerca di rispondere alle esigenze dei cittadini questa è una lotta di potere tra il partito democratico e gli uomini di spacca che devono aver litigato in qualche spartizione per carità sarà stata una spartizione di carattere amministrativo e lecita ma devono aver litigato solamente per questioni di partito e di potere non certo hanno litigato per non chiudere i nostri ospedali perché sono stati entrambi a distruggere la nostra sanità dunque una battuta su quello che è stato un tuo amico di partito Danna il quale diciamo così non si è candidato per le regionali e dice io non mi identifico più in questa in questa politica tu che cosa dici? Io posso comprendere la posizione di Danna ma non la condivido non la condivido solamente per un motivo perché questo disinteresse questa disaffezione per la politica è cercata da chi ci sta governando e da chi ha amministrato la nostra regione perché se i cittadini si allontanano dalla politica se i cittadini non vanno a votare accade quello che è accaduto a Roma dove un sindaco non certo che brilla per capacità amministrativa è stato eletto sindaco di Roma della capitale italiana la città più importante d'Italia con solamente il 20% dei consensi ora se lasciamo la politica in mano al 20% degli italiani vuol dire che la nostra nazione è purtroppo destinata ad essere governata sempre più da partiti lontani anni luce dalle reali esigenze dei cittadini bene Antonio Baldelli per la lista fratelli d'Italia in appoggio a Queiroli grazie grazie a voi grazie a tutti